Una foto e il nome con la quale la chiamavano le amiche, Jess, poi le dediche sui cartelloni. E per te questo bacio nel vento te lo mando da lì, le parole di Eros Ramazzotti, scritte sul lenzuolo bianco dagli amici della terza A di Jessica. Un ragazzo ha un manifestino dedicato anche a Massimo. Parte dall'istituto frequentato dalla sedicenne Jessica Malai, la fiaccolata a Torre Maggiore nel Foggiano, per lei è Massimo De Santis, commerciante, uccisi nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi dalla fuori omicidio di Taulant Malai, padre di Jessica. Dedicato a Massimo che conoscevi? Sì, non meritava una morte del genere perché veramente non se lo meritai per una brava persona. Tutte queste voci che ci sono in giro non sono vere. Quali voci? Tutto quello che dicono, tante cattiverie le lasciassero dove le hanno infendate e secondo me bisogna fare solo silenzio davanti a questa storia. Ero un'amica molto stretta, lei veniva a casa mia, io andavo molto spesso a casa sua, eravamo inseparabili, non mi eravamo diventate come sorelle. Ti dice il nome Jessica, che ti viene in mente per la prima cosa? Mi ricordo molto la Sarisata. La violenza è il rifugio degli incapaci, è un'altra scritta. Studenti, insegnanti e amministratori applaudono davanti al jolly bar gestito da Massimo. Niente slogan, solo il rispetto del silenzio. Un silenzio di rispetto, un silenzio doveroso per questa manifestazione. La fiaccolata attraversa il centro sino alla pineta. I lumini vengono riposti a terra, uno per volta, poi la preghiera, i flash mob silenzioso e due palloncini con la fiamma, accesa, che volano via, forse fino a Jessica. Grazie mille, 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 gra